Ci sono anche 13 bambini nella fascia di età 0-7 anni fra i 445 attualmente positivi al Covid-19 sul territorio di Battipaglia. Il dato si riferisce ai contagi registrati sino al 21 novembre. In termini percentuali i contagi registrati nella fascia di età 0-7 anni rappresentano il 3% del totale degli attualmente positivi. La sindaca Cecilia Francese ha disposto intanto la sospensione delle attività educative in presenza, dei servizi educativi e della scuola d'infanzia, nonché le attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria, fino all'1 dicembre. La decisione, scaturita anche a seguito delle istanze presentate dai dirigenti scolastici, prevede che entro il suddetto termine dell'1 dicembre dovranno essere acquisiti i dati ufficiali locali dello screening programmato dall'unità locale di crisi regionale a mezzo di somministrazione di tamponi antigenici su base volontaria.